Sempre il solito... F... e via col cacciavite! Allora... Ponte di comando... Ponte... Ponte di comando... Ponte di comando... Non ho neanche una munizione io... C'è qualcuno? C'è qualcuno? Datemi munizioni... Bella, bella, bella... Cosa c'è? Uccide a precisione, va bene... Piantina mia bella... Qua c'è... Qua c'è... Un'altra munizione per la pistola... Precisione... Ricarichiamole... Vediamo se arrivo qua... Niente, sempre chiusa... A paura... No... Tante munizioni... Sempre del ciufile... Sto ciufu... Fucile... F... 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 Ponte di comando... Altre ponti non lo so... Altre ponti non lo so... Ehm... Ehm... Apreiti il sedamo... Ehm... Chissà se è qua un po' solo... No... Sono già stato... Sono già stato... Sì... Siamo già stati... Andiamo qua... Sì... Siamo già stati qua... Sì... Siamo già stati qua... Passeggiari... No, ti ha il chufile, bravo. No, ti trovo solo il fucile, basta. No, ti trovo. 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 non ho idea e qua bisogna andare questo no come avrebbero dato la chiave c'è ascensore non ho fatto la chiave è finito è finito è finito che p*** che p*** che p*** dai vieni deficiente dai metto a aspettare questo qua fonte di comando ma sono sempre qua un passo è il suo nome vediamo via dei montati è chiudo non c'è niente siamo qua ho già preso tutto andiamo di qua cabina inferiore proviamo in cabina inferiore l'altra piantina vediamo se c'è qualche potenziamento strano allora non ho nessun potenziamento no ok diamo di fucile facciamo dentro non c'è niente tranquillo posso montare ci devo